La Pesca Subacquea La Corvina non era una specie posta sotto tutela, come è invece attualmente. La maggior parte delle catture di questa clip sarà girata con la tecnica insoggettiva, impugnando la videocamera nella mano sinistra mentre il fucile è nella mano destra. Filmare con la mano sinistra mi ha obbligato a sdoppiare la concentrazione della mia mente tra la linea di ripresa dell'obiettivo e la linea di puntamento del fucile. Esperienza affatto istintiva che mi ha imposto lunghe ore di allenamento. In sostanza con un occhio controllo l'allineamento della custodia della videocamera e con l'altro il puntamento del fucile. Nei documentari di Pesca Subacquea questa tecnica non è adottata da nessun operatore professionista per la difficoltà di realizzare delle buone inquadrature. Dopo anni di esperimenti e di pratica l'ho preferita la tecnica delle riprese da operatore esterno e da quelle della videocamera montata sul fucile. Mi sto immergendo su un costone di roccia che degrada con una franata di piccoli massi prima di una distesa di sabbia. Sto dirigendo lo sguardo alla mia sinistra per ispezionare la parete rocciosa e non mi accorgo di una corvina che si trova sulla mia destra. Il pesce mi sfila proprio davanti al naso ma è troppo veloce da provare un tiro al volo. La inseguo aspettando il momento migliore per effettuare il tiro. Un agguato insolito su un pesce evidentemente già allertato dalla mia presenza. Sembra una missione impossibile. Alla fine il pesce spaventato dall'inseguimento si acquatta tra le rocce. Questa corvina era fuori dal suo habitat naturale che di solito è nei dintorni di una tana o di una prateria di Posidonia. Evidentemente è giunta in questo tratto di fondale alla ricerca del cibo provenendo ad Allargo dove si trova una risalita rocciosa mista a grandi distese di Posidonia ambiente preferito da questo scenide. La cattura che verrà era ampiamente prevista e si svolgerà nei pressi dell'unica tana stanziale della zona. In questo sito è mia abitudine realizzare una cattura in caduta e poi spostarmi. Cerco sempre di diradare le visite nei dintorni di questa tana per non disturbare il pesce stanziale. Questo approccio nel tempo ha dato sempre i suoi frutti che si può vedere proprio dal comportamento tranquillo del branco di corvine che sto inquadrando. Il fondale è quello classico frequentato da corvine identici. Picchi di roccia tra isole di sabbia e Posidonia. Per questo tipo di pesca agguato in caduta ho scelto il Super Jelly un Arbalet 106 segmento che ritengo il più versatile nell'agguato profondo. Una cattura e via. Questa volta lascio il fucile sul gummone perché voglio mostrarvi come si presenta una tana vergine. Insomma, vergine per il mio Arbalet non so per il pistolotto degli altri pescatori subacquei. Preciso che non ho mai tirato un pesce dello spacco che vi appresto a riprendere con la sola videocamera. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho spostato di qualche decina di metri più a largo della tana che ho appena mostrato, con l'intento di controllare la presenza di un branco di dentici che storicamente frequenta questa zona. L'appostamento non è stato scelto con cura perché ho avvistato il branco di dentici già nella fase di discesa verso il fondo. In questo caso i pesci sono alertati e conviene fermarsi sul primo sperone di roccia che incontro sulla verticale per evitare ulteriori informazioni sensoriali della mia presenza. Purtroppo il branco stazionava sul costone di roccia che si trova proprio di fronte al mio appostamento. I pesci mi hanno visto e sentito scendere verso il fondo e questo aspetto ormai è fallito. Non mi resta che tornare in superficie e tentarne un altro sul promontorio roccioso dal quale ho visto allontanarsi i pesci verso il largo. Purtroppo il branco stazionava sul costone di roccia che si trova proprio per evitare ulteriori informazioni sensoriali della mia presenza. Nel secondo appostamento dirigo il fucile e le mie aspettative d'incontro nella direzione nella quale ho visto allontanarsi i pesci. Prima di rispormi immobile all'aspetto cerco anche una copertura negli sbalzi delle formazioni di roccia che in questo punto si sviluppano a gradoni sulla distesa di sabbia. Le mie previsioni si sono avverate. La dimostrazione è che l'aspetto dinamico al dentice è una strategia di pesca scientifica e nulla è lasciato al caso. L'unica accortezza nel recupero del pesce arpionato è di tenerlo lontano dalle rocce disposte sul fondo. Come potete vedere risalgo verso la superficie con la frizione del mulinello quasi chiusa in modo da poter controllare e guidare la posizione del dentice. Ecco che arriva il mio fido scudiero. Grazie. 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 E in superficie poi succede che perdo il pesce. La corvina era ben arpionata ma una volta giunto a galla le onde prodotte dai barconi per le gite e le isole dell'arcipelago di Lavezzi mi fanno sobbalzare. Con questo movimento verticale l'asta viene alternativamente tirata verso l'alto e poi lasciata cadere. L'aletta si chiude e il pesce si sfila dall'asta. Con poca convinzione vado a cercare il pesce sul fondo. Grazie. Classico esempio di pesca in caduta a mano libera. Grazie. 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 Grazie.